Ci troviamo a San Pietro in Lama, in centro, e oggi proponiamo un lotto edificabile, del quale sono state già realizzate 180 metri quadri di taverna. Immaginate ora che al piano superiore potete costruire altri 150 metri quadri della vostra abitazione dei vostri sogni. Se volete venire a vederla o avere maggiori informazioni, chiamateci, siamo a Mondo Immobiliare. Grazie a tutti.